Quindi a livello di diritto, professora Marrella, a livello di diritto abbiamo due tipologie di migranti, come diceva appunto prima il nostro professor De Rio, perché uno ha più diritto dell'altro, perché uno viene addirittura trasportato via aerea e l'altro invece deve farsi il traghetto dalla Libia dopo che l'hanno fustigato e a quanto ho avuto modo di parlare con una persona che segue queste cose, lo fanno anche apposta, perché se hanno segni di tortura, quindi gli bruciano una mano con le sigarette eccetera, è più convincente che è un perseguitato e quindi purtroppo è un passaggio obbligato. Ecco, ma tornando al discorso di prima, che differenza c'è tra i due personali? Sono due esseri umani. Sono due esseri umani, infatti sotto il profilo diciamo della tutela dei diritti umani sono uguali, ma una volta che hanno ingresso del territorio in modo legale, il territorio italiano ovviamente, però sta di fatto che il diritto internazionale, il migrante economico non ha un diritto ad entrare in un altro paese, ha un diritto a uscire dal proprio, ma paradossalmente non ha il diritto di entrare in un altro paese, altrimenti non ci sarebbero più i visti, le quote, il macchinario che serve per l'immigrazione controllata, perché l'immigrazione va controllata altrimenti crea destabilizzazione, crea caos. Quindi il migrante economico deve trovare un motivo diverso dell'economia per entrare in un altro paese. Perché la fame non uccide, non perseguita l'uomo, però diciamo che non è considerata diciamo da un punto di vista del diritto. Dell'etica e della religione sicuramente siamo d'accordo, dal punto di vista del diritto poiché ogni Stato non può ovviamente accogliere tutta l'umanità e ci sono i confini e ci sono gli ambasciati, i consolati che rilasciano i visti anche per filtrare chi viene nel territorio perché non dimentichiamoci che il visto è l'atto con cui una persona può entrare per esempio nel territorio italiano. Il premesso di soggiorno è un secondo atto che dipende poi dal Ministero dell'Interno con cui quella persona può restare nel territorio italiano. Però ovviamente nel caso degli afghani siamo invece in applicazione della Convenzione di Ginevra del 51 sullo status dei rifugiati direi in pieno. Tant'è che quella convenzione che è stata tanto criticata da molti politici ma che l'Italia non ha mai sospeso prevede appunto che in situazioni come queste dove appunto c'è un rischio di morte però accertabile nel paese di origine e così via ci sono determinati condizioni a rispettare allora c'è lo status di rifugiato che è riconosciuto non solo peraltro in Italia ma nei paesi che sono parti contraenti. Chiaro, il 1951 era subito la seconda guerra mondiale quindi era quello lo scenario che avevano in mente i negoziatori della Convenzione di Ginevra. Ripeto, il migrante economico ce lo ripete Macron ogni tanto a noi italiani in modo molto simpatico sto scherzando ovviamente non ha un diritto di immigrare. Ecco perché poi ci restituisce un po' di immigrati alla frontiera tra l'Italia e la Francia perché il paese di prima identificazione non è quello a cui vanno restituiti qualora poi non abbiano l'adilità di entrare in Francia che ovviamente è una cosa un po' fastidiosa ma diciamo non dice, non fa errori sotto il profilo tecnico. Il problema è che in una situazione come questa dato che si potrebbe dire l'operazione iniziata tramite la Nato a trazione americana dove l'80% delle forze militari era americana forse bisognerebbe immaginare che una ripartizione dei profughi fosse. Dello stesso senso l'equità vorrebbe ma non mi sembra che si stia discutendo di questo anzi ognuno fa per sé e l'Unione Europea si trova evidentemente con le mani legate perché non ha partecipato tecnicamente all'operazione in Afghanistan però siamo stati membri dell'Unione Europea oltre che della Nato e anche qui un coordinamento a livello dell'Unione Europea sembra necessario però come vedete siamo ancora molto molto lontani da questo. Professor Lucconi, l'obbligo di assistenza e di appunto accoglienza come lo vede lei? Il problema è che l'atteggiamento nei confronti dei profughi da parte di qualsiasi paese è molto legato alla difesa di un sistema sociale, economico, modo di vita per cui si accettano coloro che fuggono per ragioni politiche perché in questa maniera si allontanano da un modello che il paese che li riceve contesta, contrasta ma non si accettano coloro che fuggono per ragioni economiche perché vogliono semplicemente trovare gli strumenti, i mezzi di sospettamento. Questo è un problema che ha coinvolto, vorrei dire, quasi da sempre gli Stati Uniti che hanno questo mito kennediano della terra di immigrati ma in realtà sono stati profondamente selettivi nei confronti degli immigrati. Faccio un caso, richiamo un caso abbastanza noto, negli anni 80, inizio anni 90, gli Stati Uniti accoglievano i profughi cubani perché scappavano da un regime comunista quale il castrismo ma respingevano sistematicamente i profughi haitiani che scappavano sì da un'altrettanto efferata dittatura ma era una dittatura che rientrava nelle logiche del mondo capitalistico, del mondo sostenuto dagli stessi Stati Uniti, di cui anzi gli Stati Uniti erano il principale interprete. Bisognerebbe partire al presupposto che il diritto alla vita è il principale diritto da tutelare e quindi superare questa distinzione estremamente capziosa tra migranti economici e migranti politici perché, intendiamoci, il problema anche per i migranti politici è poi quello del sostentamento. Si fugge adesso dall'Afghanistan perché si è perseguitati in maniera anche ferata, se si vedono le poche immagini che arrivano in Occidente. Penso per esempio ai giornalisti che sono stati frustati perché hanno coperto, fotografato, dato risalto a una manifestazione di donne. Ma molto spesso i regimi colpiscono gli oppositori in maniera indiretta impedendo loro di trovare un lavoro, impedendo loro di trovare i mezzi di sostentamento. Quindi questa distinzione che viene purtroppo pacificamente accettata tra esuli politici e migranti economici è una distinzione capziosa che necessariamente dovremmo superare. Certo. Auguri. Guardi, professore, mi scusi se intervengo, ma sono completamente in disaccordo con lei perché quando si parla di migranti economici si può parlare di migranti che fuggono dalla carestia. Giustamente il professor Kazen prima ha equiparato le persone che muoiono di fame agli esuli politici e sono perfettamente d'accordo. E questi, guardi un po', a Ginevra sono stati riconosciuti perché come lei ben sa, perché riguarda la protezione umanitaria, che ha diritto a due anni rinnovabili, eccetera, eccetera, si tratta, è molto personalizzata e riguarda persone che fuggono dalla guerra, che non sono gli afghani, che hanno diritto alla protezione subsidiaria ai cinque anni, più quelli che fuggono dalla carestia. Ma qui parliamo di migranti economici e il 90% dei migranti che arrivano per la rotta mediterranea, come lei ben sa, in Italia, sono migranti che fuggono non dalla carestia, ma per migliorare la qualità della loro vita, che è una cosa legittima, ma non è emergenziale. Quindi sono completamente di d'accordo con l'Ene non distinguere, visto che non abbiamo la possibilità di accogliere, almeno in Italia, una massa di migranti economici che fuggono per migliorare la loro qualità della vita, dare la precedenza a chi è riconosciuto da Ginevra, e cioè sono quelli che hanno diritto all'accoglienza subsidiaria, gli afghani. Non abbiamo i bombi, mi scusi, finisco, guardi, telegraficamente. Il danno grosso dei migranti economici che fuggono per migliorare la qualità della loro vita e non fuggono dalla carestia, lo provocano soprattutto a coloro i quali sono riconosciuti da Ginevra, perché il 90% dei fondi italiani sono utilizzati per dei migranti che non sono dei profughi veri, anche se questo è un linguaggio tecnicamente scorretto. E per profughi veri sono, io ritengo che devono essere riconosciuti sotto il profilo anche legale, sono ben definiti da Ginevra, insomma, come lei pensava. Dimenticandoci della storia di un paese come l'Italia che dall'unità ha mandato nel mondo oltre 30 milioni di persone e che per certi aspetti continuano a mandare. Questo non c'entra niente. No, scusate, c'è un piccolo dettaglio che forse sfugge. Perché i migranti, quelli che vengono da noi perché hanno fame, perché non trovano le risorse nei loro paesi, parlo per esempio di Kenya, Sudafrica, Nigeria, perché arrivano in Italia e hanno fame quando sono ricchi di materie prime. Che gliele rubiamo? Allora, siamo sempre noi, non è una guerra con le bombe, i missili o i droni, è una guerra perché questi non sono in grado di organizzarsi in maniera feroce come fanno i talebani e quindi sono costretti ad andarsene perché il loro diritto alla vita esiste. Ma se loro si ribellano, se in Nigeria si ribellano, noi la benzina la paghiamo il doppio. Non abbiamo più i telefoni, andiamo in giro senza le batterie dei telefoni, sappiamo da dove vengono. E proprio sul discorso della democrazia, abbiamo detto che la democrazia non si esporta con le armi, ma soprattutto capiamo sempre più come perché qualcuno abbia la democrazia deve privarla qualcun altro. Questo è quello che avviene. Questa è una visione occidentale? Occidentale, questa è una visione occidentale che abbiamo utilizzato. Io sono d'accordo con il professor Lucconi quando dice che diventa capziosa questa differenziazione e dividere tra mesuri per motivi politici, migranti, economici e favorire ancora di più la guerra fra poveri. È chiaro che l'immigrazione deve essere controllata, devono esserci delle ripartizioni e qui fallisce tutto il sistema occidentale perché non è in grado, o meglio non vuole perché l'immigrato frutta più della droga come ci insegna mafia capitale. È l'occidente che non vuole risolvere il problema, ma noi dobbiamo risolverla globalmente. Chi lascia la propria casa non lo fa certo perché così aveva delle ore da perdere e va via di casa. Anche chi scappa da situazioni per migliorare le proprie condizioni di vita. L'uomo è migrante per definizione perché da quando hanno cominciato in Africa a spostarsi con Lucy e quant'altro l'uomo si è sempre mosso. Di conseguenza bisogna poi mediare, creare le condizioni. È chiaro che a livello di diritto diventa complicato la gestione e vediamo abbiamo sotto gli occhi tutti i problemi. Ma andare a dividere, creare profughi di serie A o di serie B, favorisce ancora di più l'utilizzo distorto della democrazia che abbiamo fatto qui in occidente e che dall'Afghanistan. Gli americani se ne vanno anche perché quella che serviva come economia di guerra finché c'era da guadagnarci si sono rimasti. Quando siamo arrivati a un punto in cui il debito che l'America si è creata per questa economia di guerra, chi lo ha comprato? La Cina. E come abbiamo detto prima, la Cina sta aspettando per passare all'incasso. Giustamente mi hai anticipato. C'è il fattore Cina come punto finale da osservare. La Cina fino adesso non ha dimostrato quella aggressività che abbiamo sempre dimostrato noi. Anche nei confronti della Cina, nei secoli passati, abbiamo fatto la guerra per imporre l'oppio che veniva fatto in Afghanistan e in Turkmenistan. Allora, a questo punto è necessaria la pace per riuscire a cambiare politica estera? Io ho sentito molte cose, sono d'accordo su alcune, in disaccordo con altre e non fa nessuna differenza. Però nel momento in cui noi ragioniamo su perché, su chi abbia vinto, chi abbia perso in Afghanistan, noi dobbiamo anche tenere presente di una cosa fondamentale. Rispetto al 2001, l'anno degli attentati, al 2011 l'uccisione di Osama Bin Laden, che caratterizza l'economia statunitense. Nel 2018 gli Stati Uniti sono energicamente indipendenti. Per cui, mentre fino ad allora, fino al 2018, erano sempre alla ricerca, anche venendo a compromessi imbarazzanti con potenze nemiche per approvvigionarsi di petrolio, noi sappiamo benissimo quanto l'economia statunitense sia energivora, anche quella bellica tra l'altro. Il raggiungimento che permette l'indipendenza degli Stati Uniti, io l'ho scritto nel 2012, mi ricordo, dicevo che gli Stati Uniti finiranno di essere il poliziotto di tutti, perché noi ovunque ci sia un problema, noi abbiamo dato gli Stati Uniti o con la Nato o direttamente, a parte la Francia e Libia, per cui è evidente che gli Stati Uniti hanno acquisito dal 2018 in poi una posizione sempre più gerazionista. Non dimentichiamoci che durante l'amministrazione Trump, l'accordo che fece con l'Alabia Saudita, uno dei primi stati per quanto riguarda riserve petrolifere, aveva permesso a questi due soggetti politici, in conflitto per complicità, di escludere, di cancellare l'importanza politica dell'OPEC. L'OPEC durante l'amministrazione Trump era diventata un'associazione di produttori petrolio, relativamente sul quale la figura principale era l'Iran, forte antagonista dell'Alabia Saudita, era diventata ininfluente, che aumentassero o diminuisero la produzione, il petrolio mediamente era sempre a 60 dollari, che era il margine giusto per i produttori di petrolio maestratunitensi come lo shale oil, permetteva alla Russia, altro forte produttore di petrolio, di avere anche loro dei margini e aveva politicamente messo in un angolo tutti gli altri produttori di petrolio. Quindi in questo contesto il ritirarsi, voluto da Trump, che firmò quel contratto a Doha, qual è stato il problema? Che purtroppo, politicamente, i due presidenti, Trump prima e Biden dopo, non sono stati supportati da un entourage politico, da un entourage militare che fosse stato in grado di prevedere il disfaccimento dell'esercito talebano. Lui avevamo previsto mesi per chi talebano entrassero a Kabul. Questo è stato il fallimento, l'ennesimo fallimento colossale della struttura gerarchica militare della CIA e di tutti quanti l'intelligence americana, che pensavano che tutto sarebbe svolto in qualche mese. Ma gli Stati Uniti ormai, dobbiamo rendercene conto, è un paese che è quasi autonomo economicamente, salvo ovviamente l'economia di guerra. Non dimentichiamoci che l'82% del PIL americano è fatto da consumi interni, a debito molto spesso, per cui la Cina riesce a giocare un ruolo. Ma noi non possiamo pensare, il mondo è cambiato dal momento in cui il petrolio sta perdendo quello che era il suo valore geopolitico e per gli Stati Uniti è cambiato. Mentre per noi lo è ancora, per gli Stati Uniti ha acquisito molto ma molto meno importanza. Posso di sentire, io sono sempre stato d'accordo fino adesso con il professore per quanto riguarda le sue analisi sugli Stati Uniti, per quanto riguarda l'immigrazione italiana. Sono d'accordo che noi abbiamo dato 30 milioni di immigrati, però non va dimenticato che gli ambasciatori dei paesi stranieri facevano il giro del Friuli e del Belluno per convincere le persone venite a lavorare da noi, nelle nostre miniere, per cui c'era una domanda dei paesi esteri. Erano gli scafisti dell'epoca. Esatto, che erano gli stessi ambasciatori. Infine, dico l'ultima cosa, poi mi tazzo. No, ma c'era anche la tazza sulla migrazione, perché allora i Savoia misero una tazza, vuoi andare a migrare, paghi la tazza, poi te ne vai. Le famose 100 lire, mamma mia da 1.100 lire, te la puoi pagare la tazza. Se poi posso concludere, chi ha veramente perso è stata la politica italiana, perché noi abbiamo avuto 53 morti in Afghanistan. Quando sono rientrati le nostre forze militari all'aeroporto di Pisa non c'era un rappresentante politico, un rappresentante governativo, un rappresentante parlamentare ad accoglierlo. E questo è scandaloso. Dovrebbero alzarsi in piedi questi rappresentanti ridicoli delle nostre istituzioni e chiedere scusa alle forze armate, perché loro hanno contribuito con 53 vittime. E questo è un comportamento che solo in Italia è successo. Solo in Italia. C'è un'altra vittima, che sono gli italiani, che hanno versato 9 milioni e rotti, miliardi e rotti di euro per mantenere questa guerra. Allora, una guerra che dura 20 anni, 2.500 miliardi, abbiamo fatto conto che ogni afgano maschietto di età superiore ai 18 anni, poteva avere circa 200 mila dollari a testa. Avremmo fatto ricca l'Afghanistan. E tutti questi soldi dove sono tornati? In America. Ma è evidente quello. Ecco. Bene. succintamente io vi chiedo, a turno, di tirare delle conclusioni. Secondo il vostro punto di vista, questo 11 settembre, cosa ha combinato e come è stato interpretato l'11 settembre dai politici dell'epoca e dai politici attuali. Professor Marrella, a lei la partenza. E' stata una pagina abbastanza buia nella storia del diritto internazionale e si è conclusa, secondo me, in modo non positivo per quello che chiamiamo occidente, che è fatto da due visioni ormai, una visione statunitense e una visione europea. Questo lo si vede semplicemente nelle ultime dichiarazioni, in cui abbiamo Borrell, che è il signor Pes, che è rappresentante europeo della politica estereuropea, che ha detto che adesso dovremmo trattare con i talebani e così anche la von der Leyen, ma negli Stati Uniti non se ne parla nemmeno. Peccato che avessero fatto l'accordo con Trump un paio d'anni prima. Quindi è chiaro che ci sono interpretazioni diverse e conclusioni diverse, anche questo ripiego, ritiro, come si voglia chiamare, perché anche qui la parola che si usa è interessante, ritirata, ritiro, cosa è stato? È stato fatto in maniera brusca dagli statunitensi che invece, a quanto pare, non è che hanno avvertito tutti i militari della Nato dei piani esatti di ritiro o ritirata. Quindi c'è un accordo segreto tra talebani e Stati Uniti. Sì, però visto che la Nato era servita agli americani per andare in Afghanistan, l'uscita dall'Afghanistan non si sono degnati, e questo lo so per fonti dirette, non si sono degnati di dare quelle informazioni necessarie in modo che questo ritiro fosse coordinato tra tutti i militari che erano lì, mettendo a rischio la vita degli altri militari, perché non è che uno può mancare improvvisamente l'80% delle forze sul campo. Quindi anche i nostri militari hanno fatto miracoli per riportare a casa tutti quanti vivi in modo non troppo violento. Quindi ne esce male questa alleanza transatlantica e quindi c'è da auspicare che questa pagina venga compresa, che le lezioni della storia vengano capite e che ovviamente si riparta con un'alleanza transatlantica più seria, più paritaria, più multilaterale, perché evidentemente le sfide che abbiamo davanti sono molto pericolose. A partire dalla Cina, permettetemi solo di segnalare che dopo domani presenteremo un libro a Ca' Foscari sul potere, finanza, sulla via della seta, e un dato che è molto preoccupante è quello per cui la moneta cinese è entrata nel paniere del Fondo Monetario Internazionale. Quindi la valuta, voglio dire, mettendo a rischio adesso l'egemonia del dollaro sul piano monetario internazionale. Questa sarà un'altra puntata immagino, però è veramente un salto storico di portata enorme. Certo. Professor Fusaro. Sì, io trago le conclusioni partendo da due immagini. L'11 settembre del 2001 durante l'attentato abbiamo visto persone lanciarsi dalle finestre, gente che cadeva dall'alto, cadeva giù, mossa da disperazione. Ad agosto del 2021, quando gli aerei partivano, abbiamo visto di nuovo gente disperata che cercava la FUE che è caduta giù dall'aereo. Quindi direi vent'anni di disperazione. Vent'anni di disperazione che ci hanno insegnato come non esiste una guerra giusta, che la democrazia non si può esportare e che noi come Occidente abbiamo fallito completamente. Se noi ci vantiamo come Occidente di rappresentare una serie di diritti, abbiamo solo esportato ancora corruzione, interessi economici e strage di civili. Importato droga. E' importato droga. Il 90% del commercio, il commercio di droga parte dall'Afghanistan. Potremmo, diciamo, soprattutto c'è una cosa che ci dovrebbe far riflettere tutti quando abbiamo i nostri agi. Le donne afghane quando dicono, appunto i video che sono stati mostrati, quando chiedono, noi non contiamo nulla. Abbiamo illusi e adesso li abbiamo lasciati nel loro territorio. Mi fa molto male il discorso quando Biden ha detto, noi non siamo partiti, non dovevamo portare la libertà. Noi abbiamo solo risposto a un attacco, abbiamo scombinato il terrorismo e quindi non è nostro compito portare la democrazia ovunque. Quando invece era stata presentata la guerra, come andiamo a rispondere, portiamo la libertà, siamo quelli bravi, quelli buoni e tutto quanto. Il terrorismo si sconfigge in maniera diversa. Si sconfigge facendo in modo che le materie prime appunto non ci sia un eccessivo sfruttamento, perché ricordiamoci che uno può migrare per qualsiasi motivazione. Però come, qua riporto una vecchissima frase di Andreotti, diceva che se anche io fossi vissuto in uno dei campi profughi del Libano, probabilmente sarei diventato un terrorista. Ecco, quindi quello che ci devono insegnare questi vent'anni è che dobbiamo evitare che il terrorismo possa proliferare, perché la cupidigia, la voglia, lo strapotere occidentale sfrutta il resto del mondo. Fin quando il 20% della popolazione sfrutta l'80%, questi sono i risultati. E a pagare poi è quella disperazione di chi si butta dalle torri gemelle, di chi si butta dagli aerei. Grazie. Pontelli? L'11 settembre ha cambiato il mondo, irrimediabilmente. Non credo verso una stagione più felice o migliore, ma l'ha cambiata radicalmente. La lezione che non abbiamo capito noi viviamo ancora nell'illusione, e di questo è una colpa che va alla politica degli ultimi 20-30 anni della politica degli economisti del mondo accademico, che è un mondo globale possibile dove tutti possono stare insieme, tutti possono stare insieme senza regole, perché in fondo la concorrenza è quella che è sana ogni problematica. Io dico solo, faccio un esempio perché io sono fortemente critico nei confronti dell'Unione Europea di questa von der Leyen per quanto riguarda per esempio la sua transazione ecologica. Ricordiamoci che la Cina ora sta investendo in centrali a carbone. Per cui noi ragioniamo con i tipici RAS di quartierino, cioè noi siamo molto rigidi nei confronti di noi stessi, non faremo le macchine a combustione interna, tanto la Cina sta investendo, che è già adesso il primo produttore, il primo inquinatore al mondo, sta tranquillamente investendo in energia a carbone. Questo cosa vuol dire? Che se noi non siamo in grado di tutelare le nostre realtà e quindi tutelare il nostro territorio nei confronti della depredazione di altre realtà, una volta c'erano i due blocchi, strutturitense, diciamo occidentale e l'Unione Sovietica. Adesso si sta creando un blocco cinese, ovviamente il Jolly verrà fatto da Putin che rimarrà in carica per i prossimi 60 anni o più e gli Stati Uniti che sono sempre più isolati, isolazionisti, è l'Europa e noi ragioniamo come se fossimo un quartiere di una città. Questa è la vera crisi politica del nostro continente che è vecchio e se continua così è destinato a scomparire. Noi dobbiamo ragionare nei confronti di chi, come la Cina, non dimentichiamoci che negli anni passati la Cina stava comprando i famosi minieri in Africa, non è che loro siano rimasti là a guardare, perché loro stanno già operando verso una politica molto aggressiva e noi ragioniamo del nulla. Questo è la, secondo me, ovviamente poi il discorso dei migranti e delle crisi umanitarie, penso saranno d'accordo tutti sul fatto che debbano essere accettati, che siano afghani o che siano altre nazioni importanti. L'importante è che se tu vieni da me, tu vieni rispettando le mie leggi. Punto. Perché non è più possibile adesso pensare che questi ci può, come qualcuno disse in Italia, saranno i nuovi modelli di consumo. Tu vieni da me, io ti accetto, ti do una formazione, ma con le mie leggi. Perché le mie leggi sono frutto di anni di democrazia travagliata, poi c'è stata la dittatura, ma le nostre leggi sono la nostra storia. Tu devi rispettare la storia italiana, europea. Per il concetto di reciprocità dovremmo rispettare anche le loro. Adesso, professor De Rio, una sua conclusione. Guardi, io più che una conclusione vorrei portare, riassumere molto brevemente l'appello che è stato fatto alla lettera 150 per quel che riguarda il problema umanitario. Io ho sentito delle cose molto belle oggi, ma che non tengono conto della realtà. Perché faccio un esempio e poi lancio l'appello del lettera 150. Parliamo dell'Italia, che poi è un esempio che può essere generalizzato. L'Italia ha a disposizione dei fondi per gli emigranti. Se questi fondi vengono utilizzati per il 90%, per migranti che migrano per migliorare la qualità della loro vita, non perché fuggono dalla carestia o perché fuggono dalla minaccia di morte o dalla guerra, questi fondi non possono venire utilizzati per i profughi che ne hanno diritto per integrarli meglio. Cioè, in altre parole, se vengono utilizzati il 90% dei fondi come sono stati utilizzati negli ultimi anni per i migranti mediterranei, per il meccanico del Senegal che ha venduto l'officina perché vuole vivere una vita migliopore. Ne ha diritto tutti i diritti. Ma li porta via ai migranti che fuggono dalle torture e dalla minaccia per la loro vita. E li porta via, li scippa a quelli che fuggono per la carestia. Chiusa questa parentesi. Credo di essermi spiegato su una cosa molto concreta. Un'altra cosa concreta è invece l'appello del umanitario di Lettera 150 che mette a fuoco la problematica dei migranti afghani. Faccio sempre l'esempio concreto di questi 4.500 esuli che ci troviamo in Italia. Oltre che l'accoglienza di cui si farà carico sicuramente lo Stato italiano, per quel che riguarda Vitto, Loggio, eccetera, quello che è impellente è l'integrazione di questi migranti. Cosa in cui l'Italia non ha dato un grande esempio per quel che riguarda i migranti della rotta mediterranea. L'integrazione significa, oltre che l'accoglienza, il Vitto e l'alloggio, anche la possibilità di un inserimento che passa per un primo passo, che è l'apprendimento della lingua italiana. Quindi il primo appello è stato rivolto al governo e agli enti locali perché istituiscano immediatamente dei corsi di lingua italiana. Gli enti più indicati sono ovviamente i comuni di accoglienza per questi 4.500 profughi. La cosa, tra l'altro, permette di integrare immediatamente una parte di questi perché, come tutti sappiamo, i capi famiglia dovrebbero essere, almeno teoricamente, personali interpreti, personale già conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, che potrebbero essere utilizzati almeno immediatamente come insegnanti per i loro concittadini, dando già una prima integrazione. La seconda criticità che ha visto le lettere 150 non riguarda gli studenti universitari che sono qui in Italia per fare degli stage o dei master, perché sono già protetti molto dal Ministero dell'Università che ha determinato dei finanziamenti notevoli, importanti, diciamo, per tutte le università che si prenderanno cura dei loro studenti. Riguarda la criticità, riguarda invece l'inserimento con appositi corsi degli studenti medi che arrivano in seno alle famiglie e che necessitano dei corsi di integrazione urgenti per essere immessi nella scuola pubblica italiana. L'appello finale è stato fatto un duplice appello al Presidente Draghi perché adoppi la sua influenza sull'Unione Europea e sul G20, visto che ne è il Presidente, perché apra una fase di negazione attraverso queste importanti realtà politiche in maniera tale da stabilire la continuazione di un corridoio umanitario sotto la tutela della Nato. È stato poi fatto un secondo appello al Presidente Draghi pregandolo di necessitare tutta la sua influenza per permettere che l'assistenza a chi vuole lasciare il paese, la sua patria, l'Afghanistan, sia molto incisiva attraverso sempre gli stessi enti. Grazie, grazie e dulcis in fundo, Professor Lucconi, a lei la conclusione di questo 11 settembre che abbiamo visto tante sfaccettature che ci ha portato appunto a considerare anche una guerra utile, inutile, che ha fatto felici molti americani, ha fatto infelici molti afghani, perché l'America ha guadagnato e gli afghani sicuramente no. A lei la conclusione poi? Sicuramente i grandi sconfitti sono gli afghani, 250 mila morti, lo dimostra da un punto di vista quantitativo. Più in generale sono 20 anni di fallimento dell'Occidente, di fallimento metodologico perché l'Occidente si è in luso di poter esportare i propri valori, in primis la democrazia, con la forza delle armi, imponendo questi valori in Medio Oriente, perché poi bisognerebbe anche pensare una sorta di catena di interventi, l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia e via di questo passo. Un fallimento di fini, perché se prendiamo per buono quanto ci ha ripetutamente raccontato il Presidente Joe Biden, per cui l'unica vera finalità sarebbe stata quella di combattere e sradicare il terrorismo, come nel gioco dell'Oca siamo tornati al punto di partenza, perché se si va a vedere la composizione dell'attuale governo dell'Afghanistan, è un governo di terroristi. L'attuale Primo Ministro, Mohamed Hassan Akunda, è sulla lista dei terroristi stilata dalle Nazioni Unite. Akunda era colui che riuscì a convincere il Mullah Omar a dare ospitalità a Bin Laden. L'attuale Vice Presidente, Vice Primo Ministro dell'Afghanistan, ovvero sia Abdul Baradar, è colui che, forse molti se lo ricorderanno, guidava la motocicletta con la quale il Mullah Omar scappò quando ci fu l'attacco degli Stati Uniti all'Afghanistan. E direi che è un fallimento dell'Occidente anche perché questo ventennio ha dimostrato l'inesistenza dell'Occidente. L'Occidente è andato al rimorchio delle decisioni improvvide degli Stati Uniti. L'Afghanistan è stato invaso quando Washington ha deciso di invaderlo. C'è stato poi il ritiro quando Washington ha deciso di procedere al ritiro con gli europei illusi di aver recuperato qualche interesse per Washington dopo l'ingresso di Biden alla presidenza. In realtà gli Stati Uniti hanno sempre fatto il loro gioco, non hanno mai concertato in concreto le loro politiche e l'Occidente si sta mostrando profondamente diviso anche sulla questione dei rifugiati. Quindi se il tutto nasceva per difendere una serie di valori che l'Occidente intendeva e ancora oggi intende rappresentare, direi che è una sconfitta su tutta la linea, anche a fronte del fatto che in questo ventennio si sono riorganizzati paesi retti da regimi autoritari come la Russia e come la Repubblica Popolare Cinese. Bene, grazie. Allora, per concludere, i ricchi hanno il potere, i poveri hanno la forza e alla lunga i poveri vincono sempre. Abbiamo visto nell'impero romano quando i cristiani hanno un po' alla volta, hanno preso il potere da perseguitati, sono diventati persecutori e così fa la storia. Speriamo che non sia anche questo un caso. C'è un altro fattore. Ci sono degli americani che sono felici di questa guerra. È vero che a livello di etica abbiamo perso, a livello di morale abbiamo perso, a livello di faccia l'abbiamo persa, ma gli industriali americani hanno stravinto. Non c'è niente da fare. Ed è la stessa cosa della famiglia Krupp in altri momenti. Prima guerra mondiale, addirittura la guerra degli anni 870 contro la Francia, lì nasce la famiglia Krupp a fare i cannoni, la famosa Berta che era il nome della moglie di Krupp. Questi hanno sempre vinto. Chi ci rimette? sono quelli che non appartengono e allora la storia dovrebbe avere anche una finalità economica. Cioè vedere l'aspetto economico al di là di quelli che sono gli attori principali, ufficiali, chi alla fine poi è al botteghino e tira i soldi. Questo è la storia. E se seguissimo di più l'economia probabilmente scopriremo un sacco di cose e certe morali e certe etiche andrebbero cambiate o quantomeno l'informazione al pubblico dovrebbe essere anche legato a questo aspetto. La gente deve sapere quanto si guadagna sulla morte di 250.000 persone. Non hanno rimesso le fabbriche americane, hanno straguadagnato. Ora si trovano di fronte a un altro paese che è una politica completamente diversa, che è una politica per la gente che non ha, per i poveri, diciamo quelli che hanno la forza ma non hanno il potere, è più vantaggiosa. E' la politica cinese, con tutti i danni che può fare, con tutti gli svantaggi che può dare a noi, chiaramente, perché se ci portano via un vantaggio noi ci offendiamo subito. Poi i cinesi sappiamo che sono stupidi, quindi hanno inventato tutto. Se noi abbiamo fatto un passo avanti, dalla polvere da sparo alla stampa, dalla porcellana alla seta e tutto il resto lo dobbiamo i cinesi. Poi naturalmente diciamo che ne siano stati più bravi. E allora c'è da domandare a questi cinesi che non hanno mai invaso nessun paese, salvo ultimamente, non sta nella loro etica la conquista, la colonizzazione di altri paesi. Ma lo stanno facendo, lo stanno facendo a livello economico, lo stanno invadendo l'Africa, regalando valigie di soldi e prodotti a basso costo rispetto perché hanno una politica che era quella politica che ha gestito per tempo Roosevelt. Stampo denaro, non importa quanto vale, ma funziona se lo dico io. E fu la rimonta, il riarmo degli Stati Uniti all'inizio della seconda guerra mondiale. Allora c'è un altro fattore poi per i poveri. Non stiamo regalando qualcosa, stiamo restituendo qualcosa. Perché se questo scappa vuol dire che qui c'è qualcuno che si appropria non dell'esatto valore delle risorse, ma di un valore molto basso e non consente agli Stati africani, ma lo stesso anche per gli Stati asiatici, di ottenere quella di più che noi normalmente abbiamo e che il cui costo è estremamente basso. Qui nasce però tutta una serie di considerazioni che si legano poi a quello che è la valuta, la moneta e la capacità di gestire questa cosa strana che è la moneta che anche questa sta cambiando, rottano e abbiamo i bitcoin che ci raccontano che forse abbiamo un futuro che non riusciamo nemmeno a gestire. Io vi ringrazio della vostra partecipazione perché io spero che il vostro contributo sia servito ai nostri telespettatori a capire un pochettino di più di quello che è stato questo caos di questa guerra dove c'è tutto il contrario di tutto, le più grandi contraddizioni e soprattutto la possibilità che quelli profughi vengono aiutati a casa loro. Evitiamo di andare a rapinare, così i profughi non avranno nessuna necessità di venire da noi. L'arroganza occidentale in tanti anni non ha mai conosciuto crisi sicuramente, abbiamo visto quello che è stato fatto dal periodo coloniale in poi ad esempio in Africa e non solo in Africa. Prima di salutare i nostri ospiti io volevo aggiornare i nostri telespettatori invece su quelle che sono le condizioni di Patrick Zaki, il giovane studente egiziano che è in carcere, lo ricordiamo dal 7 febbraio del 2020, ancora in attesa di giudizio, è stato interrogato in questi giorni, è stato il secondo interrogatorio per Patrick Zaki, oggetto di questo interrogatorio erano alcuni scritti dello studente relativi al 2013 che secondo l'accusa, quindi avrebbe scritto ancora prima dei post pubblicati poi su Facebook che costituirebbero poi la prova per l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Ricordiamo nel primo interrogatorio Zaki ha dovuto rispondere anche a domande sulla sua attività in Italia, sul suo operato nell'ambito della difesa dei diritti umani. Zaki resta in carcere, un carcere decisamente duro in Egitto e attende ancora un giudizio e per lui chiediamo la libertà che possa tornare libero in attesa ovviamente che sia fatta giustizia. La stessa sorta tocca ancora anche ad Aung San Suki, la leader birmana che è ancora in carcere, che lei è arrestata nel febbraio di quest'anno dopo un colpo di Stato nel suo paese, lei si è battuta per tanti anni per i diritti umani in Myanmar o ex Birmania che dir si voglia, ancora oggi è in carcere, lei sta subendo un processo e rischia molti anni ancora appunto di carcerazione. Ricordiamo che ne ha già fatti più di 15, in parte per carità ai domiciliari, ma comunque è stata in carcere per tanti anni proprio per la difesa dei diritti umani nel suo paese e anche per lei si chiede, chiediamo giustizia. Bene, grazie, grazie allora agli ospiti che sono stati con noi in studio, il professor Fabrizio Marrella, il professor Damiano Fusaro e Francesco Pontelli Buonasera, grazie. E grazie in collegamento al professor Stefano Lucconi e al professor Giovanni Deriuno. Buonasera, grazie a voi per averci aiutato a raccontare quello che è successo in questi vent'anni. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per la prossima settimana, noi torniamo alle 21, avremo come ricorrenza la parte storica, affronteremo questa volta una ricorrenza italiana, Ermanno, perché parleremo di Licio Gelli. Parliamo di un famoso personaggio che è Licio Gelli, il mistero dell'Italia, l'Italia sommersa, cercheremo di farlo emergere, sarà sempre una cosa molto difficile, ma insomma un percorso quanto meno capire che cosa ha fatto e come ha influito sulla politica italiana è abbastanza importante. È più importante di quello che si pensi. Poi la vicinanza con un altro personaggio molto importante è che il senatore a vita Andreotti, che in tempi non sospetti si conoscevano e si frequentavano, naturalmente ognuno con una visione del mondo chiaramente diversa, ma questo Gelli fu un uomo che gestì la politica italiana a livello internazionale e quindi ebbe un peso notevole in tutti i momenti. La cosa più difficile da capire è come Licio Gelli che era stato arrestato riesce a fuggire da un carcere svizzero, ma soprattutto può arrivare indenne in Italia. E lì ci fu un trucco del diritto nazionale, perché ci fu, lo spieghiamo la prossima volta, certo, ci fermiamo qui. Grazie a tutti, grazie a tutti per essere stati voi in studio e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Buonanotte, venerdì prossimo, ore 21, TV7 Match.